Come c'è gente? C'è spazzatura! Come ti va? Benone, mi arrangio. C'ho ancora i vecchi che coprono e col business fumogeno mi pago i viaggi all'estero. Dove sei stato? Un po' dappertutto. Qua e là io amo la libertà e nessuno me la toglierà mai. Sono stato pure in India. Pure? Pure. Pure, pure, pure. Era un arancione a puna, scopare un sacco impasto assicurato. Ma poi mi sono rotto, maestro qui, maestro lì. Forse eravamo smarriti. Cercavamo di riciclarci dopo la stagione politica. Ma non ci si può perdere l'infinito per trovarsi infinitamente sottomessi. Tanto vale fare i commessi, allora. Tu che dici? Ma non capisco niente di queste cose. ma questa è roba che ho già sentito. E sempre valida est. Beh, comunque anche gli orientofili dei tuoi tempi mica avevano la testa a posto. Ma che dici? Si era fuori dal sistema. Sì, però mi sembra che le cose si siano fermate. Beh, quando il sistema ti costringe a certe velocità è meglio fermarsi e riflettere.